Se arriviamo a 20.000 like entro mezzanotte ragazzi, vi faccio vedere altri smr che vanno oltre a questo ragazzi Partiamo dicendo che questo video io non lo volevo fare, rimettiamo in auge questa frase Bella a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come sempre io sono Tecnoid e siamo tornati ragazzi in una nuova reaction con tube ed eze, ovvero con gli once Salutate ragazzi, bella raga, bentornati, ciao bomberoni Oggi ragazzi non ho ancora detto nulla a loro, gli ho detto ragazzi dobbiamo registrare una reaction insieme, sarà una reaction molto particolare perché ragazzi da qualche tempo ho scoperto gli smr Adesso tu mi dirai, eh ma gli smr esistono da tempo ragazzi, ma non pensavo che esistesse un altro livello degli smr ragazzi, perciò preparatevi perché questo video sarà un crescendo Partiremo piano piano e vi assicuro ragazzi che finiremo con il bot dell'smr Non pensavo che si potesse fare un certo tipo di smr su youtube senza appunto avere il bollino rosso, ma secondo me io in questo video avrò il bollino rosso Ragazzi io vi chiedo semplicemente una cosa, rilassatevi, ok? Mettete le cuffie Eze, guarda il telefono No ma che state scrivendo? Dai ma così è brutto, cioè ma mi state escludendo No noi non ti stiamo escludendo Allora mettetevi comodi ragazzi, mettetevi le cuffie e soprattutto anche voi che ci state guardando rilassatevi, alzate il volume e soprattutto commentate qui sotto su quello che ne pensate di questi smr Allora partiamo da questa, ok? Ok ragazzi, eccoci qua siamo pronti, io vi faccio ascoltare dei pezzettini e ditemi che cosa ne pensate Già il titolo, già il titolo con la lingua, va bene vai vai Ok Il titolo con la lingua fa scappoggio, ho capito Vai si parte A 4k Eze un voto da 1 dice alla signorina che gentilmente ci sta offrendo queste smr Deve essere sincero, stavo guardando la stella là in basso, stavo guardando Sono sincero, perché mi hai detto questo, ho fatto così E roviare un attimo incantato Piccolo particolare, ha 4 figli, perfetto andiamo avanti Lei c'ha 4 figli Ma credo che il marito glielo avattiva 4 Ma con me ne avrebbe avuti già 18 Andiamo avanti Ok sta per cominciare Eccola qui ragazzi Start, start Ma che c***o dici? Ma che c***o dici? Ma che c***o dici? Questa roba E' legale, è oria Per coprire il battone che si sta alzando qua sotto Allora Tec, io ti devo dire fratello che purtroppo devo utilizzare una roba particolare Siamo solo all'inizio, vi ho detto che è un crescendo, fidatevi di me, è un crescendo Guarda tu, guarda tu Sta entrando in un'altra dimensione Andiamo avanti? Prego Ma questo non è il rindo Sto male Non ce la faccio più Oh, ASMR ragazzi Che volete? Oh, YouTube permette ste cose Regà, è una forma d'arte Possiamo andare avanti? No, tube Ma perché si è coperto? Che sta a fare? Ok, possiamo andare avanti? Ho capito zio Eh, fra, dai, fra, fra Non, non, cioè non può No, no, non puoi No, non puoi, fra Ma poi che sarà buono quel microfono lì? Si è buono quel microfono lì? Lo provo anch'io se volete Ma no, ragazzi No, ragazzi Non ne la faccio Non ne la faccio No, Tec non ne la faccio Posso ricordare una cosa? Quattro figli Pensa, pensa Quattro figli Quattro figli li ha fatti Ma chissà quando in angolo Questa, ragazzi È la prima ragazza Che abbiamo visto E come vi ho detto prima Starà tutto un crescendo Abbiamo un'altra artista Perché vi ricordo Che queste Sono tutte artiste Questa parla anche Perché fa le intro E c'è da Questa, regà Vi dico che È forte Edze, è tutto a posto? Sta cominciando Tu mi calma Di che questo momento comincia Edze Oh, il cuscino Vado 3, 2, 1 È la madonna È la madonna A spruzzino Lì dove? 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 Mica L'arrabbiatoio, ragazzi È la mela È la laurea questo Il kinotologia, zio C'è la madonna Ragazzi, mi sento male Mi sento malissimo, ragazzi Ragazzi, scusate Nel mentre però Cioè, nel mentre Mi ha pulito le orecchie Peggio dello spray Quello che usano gli otorini Sì, ma questa è Prima Quella che abbiamo visto Magari era versione maschile Questa è versione femminile Per pochi Quella di prima, frate Ti avviso Mi passi il link Perché Andiamo avanti Andiamo avanti Questa fra te C'è Oh, non respiro più Madonna E dove siamo finiti E la madonna Ti senti male? No, no Ti senti male Ti hai abbassato la testa Che è successo? Mi sento male Che è successo? Eh, non mi sento bene Oddio Oddio Non mi sento bene Tanto sua mamma Non mi sento bene Tube Io adesso Tama Uh, uh Basta raga Mamma mia Come mi sento male Questa L'abbiamo vista Facciamo così Onde evitare che Onde evitare che Poi mi rompi il cavolo E mi dice No Tube Questo lo devo tagliare Perché si è scocciato Perfetto Tube Hai fatto veramente lo scotch Perché come vi ho detto Questo è un video Che andrà a crescere Perciò adesso passiamo A quella dopo Ok Oddio E la madonna E vacca Di quella grandissima Pelosa Donna nuda Mamma mia Raga Io non so perché Su queste cose Se possono fare su YouTube Possiamo andare Raga Qua Qua al massimo Farò Farò scurare Non so se Avrò problemi di bollino Andiamo avanti Posso andare? Sì sì Prego Prego Vado No 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 Allora Allora No No Io mi dissocio Da queste cose Io mi dirò fuori Io mi dirò fuori No 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 Ma io mi meraviglio Raga Sinceramente Che queste cose Si possono fare su YouTube Vabbè Vi mando No 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 Tec No 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 Tec Escuta la condivisione No No Tec No No Tec No 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 Tec No 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 Tec Cambia immagine immediatamente Cambia subito Cambia frame Te posso far vedere 3 secondi Vabbè Tec Premi play Se stai bene Raga Non voglio andare ulteriormente in questo video ragazzi Perché sarebbe meglio Oh ma te concentri YouTube No si 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 Non ti vuoi manco più sentire Ragazzi ASMR No no Basta Basta Detto ciò ragazzi Io mi fermerei in questo momento Secondo me il bollino rosso ce l'abbiamo già YouTube me l'ha già dato Mi sono già preso una violazione delle norme Ma quello che abbiamo fatto non è altro che reagire a contenuti che ci sono già sulla piattaforma di YouTube Ragazzi ve la butto lì Se arriviamo a 20.000 like entro mezzanotte ragazzi Vi faccio vedere altri ASMR che vanno oltre a questo ragazzi E se vi dico oltre a questo tube fidati che io non mento Vanno oltre a questo Mi raccomando Scusa Sì Io vado Ciao Ciao ragazzi Lasciate un pollicello lì su E commentate qui sotto nei commenti Che cosa ne pensate Di questa tipologia Di ASMR Artisti Iscriviti al canale